Ti devo sempre dare alla schiena. Allora, l'ultima parola questa sera è tonache, perché si avvicina il Natale e dovremmo essere tutti più bravi e più buoni, anche i preti. Invece la cronaca di queste settimane ci porta alla ribalta storie di tonache terribili, che forse sono esistite anche in passato, ma comunque, viste tutte in fila, fanno un certo effetto. Ho un'avvertenza da darvi per i contenuti, a volte anche scurrili, il racconto che seguirà è consigliato a un pubblico adulto. Tonaca terribile numero uno. Don Pietro Vittorelli, abate di Monte Cassino dal 2008 al 2013. Dico Monte Cassino, l'abbazia del fondatore dell'ordine benedettino San Benedetto da Norcia. Allora, ebbene, cosa fa Don Pietro? Nel 2008, appena nominato, tiene un bellissimo sermone dal titolo I beni della Chiesa non vanno usati per se stessi. Dopodiché comincia a usarli per se stessi. Attinge dai conti dell'abbazia, alimentati dall'otto per mille e dalle elemosine dei fedeli, e in quel modo comincia a finanziarsi la sua bella vita. Droghe, prostituti, cene a base di ostriche e champagne, creme e profumi da mille euro, a botta. Viaggi di piacere da Londra al Brasile, dove una volta arrivò a pagare un conto d'albergo da 23.000 euro, sempre pagato con i conti delle elemosine dei fedeli. L'abbate rivela il suo catechismo di vita al telefono con un amico. Sono a Berlino, a una festa da paura, è questo il paradiso. Poi me ne vado al caldo a cercare maschi. E ho usato maschi per dire il tutto per la parte, diciamo, la parola era un'altra. La vita è tiranna e puttana, è per questo che io faccio tutto quello che mi pare. Io ero rimasto ancora alla regola benedettina dell'ora et labora, invece. Questo era il primo. La seconda tonaca terribile. Monsignor Lucio Angel Vallejo Balda. Il religioso chiamato dal Papa a rimettere ordine nelle spese della curia, finito nei guai per associazione delinquere in combutta con la sua protetta. Francesca Immacolata, ciao qui, la PR non troppo immacolata, di cui pare fosse piuttosto succube. Ne fanno fede i messaggi letti al processo, che è in corso in questi giorni in Vaticano, e pubblicati sui giornali, i messaggi che i due si scambiavano su WhatsApp. Lei, senti, ora che vai al mio paese giù in Calabria, mia mamma ti porta da Silvana. È perfetta. Ed è una mia cugina, così può anche essere salvato il patrimonio genetico. Poi mi dici che ne pensi. 36 anni, morbida. Il monsignore digita in risposta un bel mmm. Lei allora cerca di chiudere. Martedì sera viene a casa tua a trombare, ok? Non ricevendo risposta, dopo un minuto messaggia di nuovo il monsignore. Silvana vuole trombare, che facciamo? Io no, risponde il monsignore. Ma l'Immacolata non molla. Silvana è morbidissima, perché non va bene? Voi penserete, scrupoli morali, ma che? Nel suo italiano spagnoleggiante, il monsignore digita. Lassa perdere, è bruta. Terza tonaca terribile, terza e ultima. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara, vicino a Comunione e Liberazione. Non esattamente un fan di Papa Francesco, specie da quando Bergoglio ha osato nominare vescovi di Bologna e Palermo a due preti di strada. Ebbene, stavolta non è stato necessario usare le intercettazioni, perché l'arcivescovo ha parlato a voce alta davanti a dei testimoni, tra cui due giornalisti, in uno scompartimento di prima classe del Frecciarossa. E come ha raccontato il fatto, i passeggeri increduli lo hanno sentito urlare, dire, insomma, a voce molto alta. Speriamo che con Bergoglio la Madonna faccia il miracolo, come aveva fatto con l'altro. Ora, i maligni hanno subito pensato che l'altro fosse un'allusione a Papa Luciani, che come sapete morì dopo 33 giorni di pontificato, ma lui ha minacciato querele, sostenendo che di ben altro miracolo si trattasse. Anche non ci è dato sapere quale. Ecco, io in conclusione direi questo, sono laico, premetto, ma se esiste una prova, una, a favore della natura divina della Chiesa, è che sopravvive da duemila anni, nonostante certi preti. Forse grazie al fatto che per fortuna ce ne sono anche tanti altri un po' più veri di questi. Applausi